In questa sessione dedicata alle fonti e metodi innovativi per la misurazione dell'ambiente e la lettura territoriale, si pone l'accento su alcune delle linee di attività che il mondo della ricerca e della statistica ufficiale stanno promuovendo per corrispondere alla domanda di nuova informazione statistica ambientale. Basi dati territoriali e indicatori pertinenti calcolati a una scala geografica idonea a leggere anche ambiti specifici quali ad esempio le aree urbane, sono infatti il presupposto per l'accurata descrizione dei luoghi e la misura della loro qualità ambientale. L'offerta di indicatori ambientali illustrata da ISPRA e la presentazione delle nuove basi territoriali sensuali dell'ISTAT offrono un overview di dati e strumenti volti a consentire la misura delle dimensioni ambientali e la lettura congiunta delle interazioni uomo-ambiente. La necessità di applicare robuste tecniche d'analisi statistica per la corretta interpretazione di multiset di indicatori tematici e le opportunità informative offerte dall'integrazione di basi tematiche ambientali innovative quali la mappa delle ecoregioni con indicatori socio-economici georiferiti per gli stessi ambiti ecologicamente omogenei sono presentate negli interventi degli studiosi dell'Università di Bologna e Roma Sapienza. Speriamo di raccogliere le sollecitazioni di tutti gli stakeholders attraverso questa presentazione indirizzata a condividere come meglio informare il processo di transizione ecologica. Vi auguro buona eco-sessione.